Ciao ragazze, buongiorno, ciao ragazzi, buongiornissimo, benvenuti nel mio messaggio del giorno per voi. Anche oggi eccoci qui nel nostro messaggio. Come state? Spero bene. Io sapete che inizio subito perché questo è un messaggio breve che appunto noi giorno per giorno analizziamo cioè che cosa c'è così un qualcosa che vi deve arrivare e che quindi tutti coloro che apriranno questo video potranno recepire se è diretto a loro. Quindi andiamo a vedere oggi il Rider White Tarot che messaggio hanno per voi. Prendiamo una carta di questi meravigliosi tarocchi e mettiamola qui. Poi andiamo a vedere le carte delle Norman che appunto andiamo a mischiare. Quindi queste meravigliose carte vediamo che messaggio hanno per voi. Allora sapete ragazzi che il messaggio lo decidono le carte quindi può essere un messaggio d'amore, di lavoro, di fortuna, non lo so, di un qualcosa che voi dovete sapere, capire, riflettere. Questo non lo so. Poi lo diranno le carte. Di certo se voi siete qui in questo momento qualcosa per voi è destinato che sapete. Ovviamente prendete tutto con le due due cautele perché sapete che è un interattivo. Per cui se avete una situazione che vi sta a cuore particolarmente e volete analizzarla con me nella descrizione del video ci sono i miei contatti ZairaFassariGmail.com oppure nel mio profilo Facebook Zaira Fassari messaggio privato o ancora nel mio profilo Instagram Zaira e i suoi tarocchi sempre messaggio privato. Quindi andiamo a vedere adesso gli angeli che cosa ci vogliono dire. Quindi le risposte degli angeli vediamo che risposta ci danno. Quindi quale sarà il messaggio del giorno per tutti coloro che stanno guardando il video. Vediamo gli angeli che cosa ci dicono. Andiamo a prendere una carta anche per queste meravigliose carte oracolari. Infine andiamo alle risposte degli oracoli. Quindi andiamo a vedere anche con queste potentissime carte che messaggio ci deve arrivare oggi. Ragazze io poi vi voglio tutte quante e tutti quanti nei commenti. Fatemi sapere se appunto c'è qualche riscontro. Quindi vi aspetto nei commenti. Allora andiamo a vedere che messaggio gli oracoli hanno per voi stamane. Andiamo a vedere. Prendiamo una carta a caso e la mettiamo qua. Eccoci qua con le carte verdi. Queste sono carte che ho costruito io. Vedete? E dove ho messo diciamo nel lato interno delle frasi. Quindi delle cose che, insomma, dei pensieri, delle frasi simboliche che possono dirci molto. Allora andiamo a vedere il messaggio per voi oggi con le mie favolose carte verdi. Le carte verdi di Zahira. Andiamo a vedere. Prendiamo anche in questo caso una carta e la mettiamo qui. Eccoci qua completato. Andiamo a leggere queste meravigliose carte. Che cosa ci vogliono dire oggi? Allora qui abbiamo il sette di coppe. Per quanto riguarda i tarocchi. Le Norman ci parlano di un meraviglioso cuore. Quindi qua ci parla d'amore. Questo è un amore benedetto. Una benedizione per voi. Anima gemella ci dicono gli angeli del cuore. Ragazze qua si sta svolgendo un bel messaggio. Se ci credi davvero. Ecco qua. Le risposte degli oracoli ci dicono sinfonia incompiuta. Quindi vediamo poi qua qual è il nodo di questa situazione. E qua la carta che pesco. Che se abbiamo pescato e non voglio avere una relazione. Questa è una carta che già. Io sono appena due giorni che uso queste carte. Però questa è la seconda volta che mi esce questa carta. Quindi qua c'è un'energia di rifiuto nell'aria. Non voglio avere una relazione. Allora vediamo un attimino qua di che cosa ci parla questa situazione. Allora vedete qua abbiamo. Abbiamo una situazione di idealizzazione. Di fantasia. Di fantasticare. Di sogni. Di pensieri. Insomma sapete quando uno col cervello. Con la fantasia va su Marte. E poi magari a concretizzare rimane nelle quattro mura di casa. Qui è pur vero che si parla di un'emozione. Di un amore forte. Grande. Bello. Un'emozione forte. E sicuramente questa è la vostra anima gemella. Ok? Quindi qua c'è un amore carmico. Perché voi sapete che le anime gemelle si incontrano per poter sciogliere un nodo carmico. C'è un qualcosa che l'uno deve capire dell'altro. Quindi qua la carta se ci credi davvero. Quindi voi ci state credendo davvero. Anche se questa persona sembrerebbe che rimane nel piano del fantasticare. Della fantasia. E del poco concretizzare. Pur essendo che vi pensa. Che vi sogna. Che vi idealizza. Però al momento di concretizzare è come se non ci avesse il coraggio di farlo. E forse proprio questo è il nodo carmico di questa coppia. Allora andiamo a vedere. Qui il nodo sta in questa sinfonia incompiuta. Vedete? Questa carta ci parla proprio di karma. Perché ci parla proprio di una questione che rimane sempre in sospeso. Quindi si sente il bisogno di rimediare. E c'è appunto una mancanza di conclusione. Quindi che cosa vi consiglia questa carta? Di dichiarare i vostri sentimenti. E accettare le cose così come sono. Quindi qua è una situazione. Che se voi ci credete davvero. Dovete accettare questa situazione. Perché questa persona non vuole una relazione. Ma non vuole una relazione. Non significa non vi ama. Significa che lui al momento. Pur avendo una forte emozione. Un affetto. Qua si parla di amanti. Di amore. Insomma qua c'è il cuore. Ragazzi questa è la carta dell'amore. No? Quindi c'è proprio la benedizione. Cioè voi vi dovete semplicemente. Semplicemente godervi il momento. Senza fare progetti per il futuro. Perché questa persona al momento. Adesso non vuole una relazione. Quindi se voi ci credete davvero in questo vostro amore. Dovete dichiarare i vostri sentimenti. E accettare la situazione così com'è. Anche se magari rimarrà una sinfonia incompiuta. Però. Però. Voi dovete accettare la situazione. Se volete questa relazione. Se no. Se non l'accettate. Pensate che questa persona comunque per voi. Per quanto sia. Insomma innamorata. A modo suo. No? Oppure è innamorata nel modo giusto. Però questa persona non ha intenzione di avere una relazione. Non vuole concretizzare. Vuole lasciare tutto nella fantasia. Probabilmente ha paura di mettersi in gioco. Di lasciarsi andare. Poi lì si apre un mondo troppo grande per il messaggio del giorno. Quindi ragazze. Questo o ragazzi. Questo messaggio è prettamente per l'amore. E prettamente ci parla di una situazione. In cui uno dei due non vuole avere una relazione. Ma non perché non è innamorato. O perché non c'è connessione. Anima gemella. Ma semplicemente. Perché è una situazione karmica. Lui avrà o lei avrà i suoi buoni motivi. O non saranno buoni motivi. Ma voi siete costretti ad accettare. Perché al momento questa persona vuole vivere quest'amore. Vuole fantasticare. Sognarvi. Pensare. Avere anche una relazione. A modo suo. Una frequentazione. Ma non vuole impegnarsi. Quindi questo era il messaggio di oggi per voi. Ragazze e ragazzi. Io vi aspetto tutti quanti nei commenti. Fatemi sapere se questo messaggio è arrivato ad alcuni di voi. Sono molto curiosa appunto di capire se poi ci sarà un riscontro. Questo è un esperimento. Quello del messaggio del giorno. Che a me sinceramente piace. Penso che comunque vi può aiutare. Un consiglio. Un qualcosa. Certo voi ragazze prendete sempre tutto con le pinze. Cioè non prendete decisioni importanti. Ma non solo nell'interattivo. Ma in generale. Le carte sono. Non è una scienza certa. Sono energie. Quindi non è che insomma adesso prendete tutto per coro colato. Però. Sicuramente qualche piccolo segnale. Qualche suggerimento. Un consiglio. O un punto di riflessione. Quello ve lo offre sicuramente. Ragazzi miei. Vi mando un bacione enorme. Sapete che vi voglio bene. Grazie infinite di seguirmi. Grazie per gli iscritti. Nuovi, vecchi, soliti. Grazie, grazie, grazie di cuore. Ciao. Ci vediamo a domani. Nel prossimo messaggio del giorno. Ciao dalla vostra Zaira.